Nel 2010 ha dichiarato solo redditi rifabbricati di pensione. Nel 2011 non ha neanche presentato la dichiarazione, nascondendo così gli introiti derivanti dalla sua attività imprenditoriale. Alla fine però non è riuscita a farla franca. È stato scoperto dai finanzieri di Acquiterme che hanno quantificato in circa un milione di euro i ricavi non dichiarati ai fini delle imposte sui redditi e in oltre 200.000 euro l'IVA evasa. Dall'attività di indagine condotta dalle fiamme gialle era emerso in particolare che negli ultimi due anni un imprenditore operante nella quese non avesse dichiarato redditi per la sua attività di autotrasportatore nonostante disponesse di personale e mezzi per il relativo esercizio. Scattata la verifica e i controlli presso i clienti via via individuati i finanzieri sono riusciti a ricostruire per intero notevole volume d'affari e in particolare a quantificare in circa un milione di euro il valore delle prestazioni rese nei confronti di diversi soggetti economici attivi nel Basso Piemonte e in Liguria. Gli importi così rilevati sono stati quindi segnalati per il recupero a tassazione all'Agenzia delle Entrate. È stata anche proposta l'adozione di misure cautelari reali a garanzia dei crediti erariali sui beni immobili e mobili. E intanto continua senza sosta l'attività di controllo delle fiamme gialle alessandrine per la tutela della spesa pubblica verificando cioè che i fondi pubblici stanziati siano effettivamente impiegati per finalità di rilancio dell'economia e quindi vadano a beneficio delle situazioni di maggiore disagio economico. In questa prima parte dell'anno i finanzieri hanno in particolare controllato la regolarità di oltre 6 milioni di euro di erogazioni pubbliche, più precisamente i finanziamenti agevolati concessi ai sensi della legge 488 del 92 a favore di alcune imprese manifatturiere alessandrine per programmi di investimento nelle aree depresse del paese e contributi erogati dall'Unione Europea per favorire lo sviluppo regionale. Sono inoltre in corso diverse indagini per la repressione di frodi previdenziali assistenziali mentre sono già stati individuati più di un milione 200 mila euro di danni erariali a seguito di controlli effettuati di iniziativa o su delega della procura regionale della Corte dei Conti. Smascherati poi 20 falsi poveri che attestando falsamente un basso tenore di vita hanno indebitamente beneficiato di prestazioni sociali agevolate previste in favore di cittadini realmente meritevoli di tutela sociale. Si tratta di agevolazioni come ad esempio la riduzione del costo di mese scolastiche, i buoni libri per studenti e le borse di studio, i contributi erogati da comuni e regione per il pagamento del canone di locazione, pare complessivamente a un valore di circa 20 mila euro.